ciao ragazzi bentornati on the matters bentornati bentornato matti bentornato matti allora arriviamo da settimane di subbugli caos confusione scusate mi avvicino ero un po lontano cadono i governi oltre l'oceano oltre manica oltre manica il giovane biden dice che l'europa è minacciata dalle destre crescenti se era quello che voleva dire insomma in italia si accadono cose devo dirti che dopo la puntata di settimana scorsa qualcuno mi ha detto siete stati un po politicamente scorretti mi sono sentito in dovere di ringraziare giustamente perché politicamente scorretti abbiamo raccontato di fatto ciò che era successo durante quei giorni sì sì penso che alla fine siamo stati molto attinenti alla realtà come in realtà lo siamo nel 99,9 per cento delle volte non faremmo il nostro dovere morale se non raccontassimo i fatti con la nostra chiave di lettura ovviamente e cosa vogliamo raccontare in questa puntata il tema vabbè quello dei diritti è un momento in cui secondo me è anche giusto focalizzarsi partiamo da qualcosa che ancora forse non ha non è stato approfondito no pienamente dal mondo dei media che è un po l'ultimo lascito di mario draghi esatto del governo draghi il governo dei migliori no quello che ha è riuscito ad attuare delle riforme per uscire un po dalla crisi tecnici politici mix e fare proprio che davvero fosse quello dei giusti e dei migliori quindi vabbè insomma non 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 spingiamoci oltre queste valutazioni su un governo che sta nascendo in queste ore però diciamo che cosa il governo draghi ufficialmente è terminato perché in parlamento si sono insediati i nuovi deputati i nuovi senatori ma come ultimo lascito il governo draghi raccontato dalla ministra per le pari opportunità bonetti ha lasciato questa strategia triennale per la tutela dei diritti oh ma di cosa si tratta sostanzialmente è un piano che individua sei ambiti tra cui per esempio il lavoro la scuola comunque l'economia anche l'educazione eccetera e cosa ci dice sostanzialmente è un piano per implementare dei processi delle dei nuovi programmi ok dei veri e propri non so domina parola iniziative ok con obiettivi concreti con obiettivi concreti esatto in tema di inclusione diversity management e sostanzialmente sì vabbè con inclusione in realtà sì no sono ok diritti diritti molto specifici perché infatti questa cosa chiama strategia nazionale lgbt lgbtq plus ok non pretendiamo che voi vi ricordiate la sequenza esatta delle lettere perché non ce la ricordiamo neanche noi però è proprio questa 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 cosa che tra l'altro se poi uno la va a studiare la va a leggere va a vedere tutti gli articoli ci trova molte somiglianze con che cosa era il ddl zanna il caro vecchio di cui abbiamo parlato molte volte in modo molto approfondito no per cui ci sono delle aree di intervento che richiamano il disegno di legge perché è stato importante settare questa pianificazione triennale perché in realtà l'unione europea la commissione europea ci sostanzialmente finanzierà alcuni di questi progetti esattamente qual cosa era vincolante però perché l'unione europea andasse poi effettivamente a finanziarli che ci fosse una pianificazione un progetto che le inglobasse esattamente quello che tu hai appena citato quindi come come per il pnrr ci sono degli obiettivi stabiliti che uno deve raggiungere per avere i fondi o dei paletti così in questo modo sono stati stabiliti i paletti insieme all'europa che andranno poi raggiunti per essere per ricevere i fondi per finanziare questi progetti una cosa bellissima bellissimo ma anche perché ti dà una visione proprio globale su quello che è il futuro su quello su come va il resto del mondo noi parliamo di congedi parentali per i genitori dello stesso sesso incentivi alle aziende tutela delle persone che stanno affrontando il processo di cambiamento del sesso quindi è importante esatto quindi insomma veramente un passo avanti o anzi un passo al passo con quello che succede nel resto del mondo è una bella notizia è bellissima chi spetterà di fatto poi implementare questo progetto al nuovo governo e che cosa ha fatto il nuovo governo che ancora non esiste ha deciso proprio di come dire allargare allargare i diritti di tutti noi andare oltre la vita andare prima della vita prima dei diritti ancora prima dell'esistenza di noi stessi saremo già tutti i lati dal diritto alla vita stessa come con tre disegni di legge anti abortisti esatto esatto quindi lungimiranza al massimo protagonista di questa manovra il senatore gasparri noto a tutti per posizioni liberali equilibrate da sempre per scontri moderati con politici rapper fedez e altri altri esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo ha presentato questo disegno di legge contro l'aborto che in fatto allunga il diritto della persona perché come voi sapete il diritto all'esistenza all'essere il diritto diciamo il riconoscimento giuridico nel nostro diritto civile dice che sostanzialmente sei una persona giuridica nel momento in cui nasci questo cosa cosa fa sì che l'aborto non sia fondamentalmente un omicidio esatto perché se io ti ammazzo dopo che sei nato è omicidio ma l'aborto che non è un omicidio appunto avviene prima prima della nascita esattamente infatti questo disegno di legge proporrebbe ve lo dico proprio in termini giuridici la capacità giuridica del concepito ok questo vuol dire che fin dal momento del concepimento per cui magari ancora il genitore non sa di la mamma non sa di portare in greme un figlio a quel punto c'è già una capacità giuridica del concepito e questo vorrebbe dire uccidere eventualmente un essere umano non lasciando la libertà di poter scegliere ai genitori alla madre o a chi per essere quindi insomma una posizione un po' radicale un po' conservatrice non bastasse questo viene anche ridefinito quello che è il ruolo del consultorio dove pare che a questo punto possa essere anche possibile assumere degli obiettori di coscienza che è alquanto anacronistica come cosa nel senso che i consultori sono nati esattamente a tutela dell'opposto esattamente per lasciare sempre più diritti alle madri che in difficoltà o per vari problemi decidessero su questo strano valore della vita che viene prima di tutto ma vabbè per fortuna in realtà appunto il lascito del governo Draghi in realtà ci lascia una speranza importante che viene sostanzialmente garantita poi dall'interesse europeo che ci sta dietro speriamo quindi che ecco questi siano veramente i capisaldi del ecco diciamo che forse probabilmente la tutela dell'Europa è un po' la garanzia affinché questo piano venga decisamente è portato a termine magari non subito magari non in modo veloce anche perché se non sbaglio mi pare che il ministro delle pari opportunità non esista più no come vogliono togliere il ministero delle pari opportunità si togliere il ministero per scorporarlo in altri ministeri per esempio quello dello sport ora l'attinenza tra le pari opportunità sport qualcosa con l'imparzialità non so si non lo so il libero arbitrio arbitrio arbitro potrebbe essere penso che abbiano fatto un po' confusione ma la cosa non mi stupirebbe o magari lo danno in delega qualche altro ministero a cui non c'entra niente si l'economia ok esatto si si economia con delega alle pari opportunità esattamente un sottosegretariato non lo so comunque vedremo questa attuazione in che direzione andrà per fortuna il solco è tracciato dal governo Draghi sta all'aratro che metafora speriamo un bel solco profondo in modo tale da non uscire al di fuori del nuovo governo portarlo a termine facendo crescere le sementi rigogliose ed prolifiche guarda che bella chiusura metafora splendida probabilmente questa veramente rimarrà negli anni di questo podcast grazie quanto è importante l'Europa? è importante no? è importante esserci all'interno questo ce lo dimostra fondamentale per la tutela dei diritti fondamentale per la tutela dei diritti e laddove manca un'entità se vogliamo tale come l'Unione Europea effettivamente qualche altro problema di diritti ce l'abbiamo stiamo parlando di un'altra area del mondo che in questi giorni sta facendo discutere è l'Iran esatto sta facendo discutere in realtà da molte settimane poi l'attenzione dei media si è posta su tutt'altro anche perché ovviamente il tema in Italia erano le elezioni la politica ma anche nel resto d'Europa e poi si è imposto anche questo tema ma cosa sta succedendo in Iran? è un mese fondamentalmente che in Iran ci sono delle proteste da parte fondamentalmente dei movimenti femministi ma non solo è importante sottolinearlo non solo sono un po' delle proteste se vogliamo antiregime quelle che ci sono in Iran assolutamente perché cos'è successo? un mese fa è stata arrestata una ragazzina di 20 anni a Tehran che era in vacanza con la famiglia da quella che è la polizia religiosa iraniana la polizia religiosa o anche la polizia morale morale esatto e beh certo è che poi morale e religione per qualche strano accrocchio in realtà poi sono la stessa cosa c'è una fusione non si capisce bene perché come se non esistesse una morale o un'etica laica ma è un altro discorso ok anche qui poi ci ricolleghiamo al libero arbitrio la moralità e all'etica ma in Iran c'è una polizia morale è stata arrestata questa ragazza che è stata detenuta e sostanzialmente dopo circa tre giorni è deceduta l'ospedale che sostanzialmente l'ha dichiarata morta ha poi dichiarato anche tramite i social in un primo momento che fosse già arrivata celebramente morta in ospedale qual è il contesto? il corpo è stato tenuto sostanzialmente nascosto alla famiglia per evitare che cosa? sostanzialmente che venissero mostrate quelli che erano le tumefazioni di un corpo martoriato una storia che in Italia ci rimanda forse a un caso che è stato di attualità per molti anni è il caso Cucchi arrestato e poi morto per... in temi diversi però assolutamente delle analogie morto per motivi naturali qualcuno aveva detto per una crisi epilettica altri per droga in realtà poi grazie alla tenacia della sorella Ilaria Cucchi è stato dimostrato che era stato pestato a sangue esatto le dichiarazioni delle autorità iraniane sono state esattamente queste è morta di infarto quando di fatto... quanti anni? ricordamelo, scusa vent'anni vent'anni cosa è successo? questo ha dato il via è stata sostanzialmente la miccia che ha scatenato le proteste in tutto il paese per fare un attimino dare un numero di contesto perché forse la gente non sa che l'Iran è un paese di quasi 84 milioni di abitanti in Italia ce ne sono 60 di milioni quindi stiamo parlando di una portata di un problema gigantesco ok? quasi se vogliamo internazionale proprio per la numerosità dei cittadini che coinvolge partono, iniziano queste proteste ad oggi fonti sostanzialmente ufficiali, associazioni che si occupano di diritti umani ma anche le stesse fonti poi i media dichiarano che sono morte più di 250 persone in queste proteste c'è stata un'altra ragazza che è morta questa volta colpita pare da 20 proiettili dicono addirittura al collo, al cuore cioè proprio l'hanno voluta uccidere trucidata trucidata durante queste proteste la polizia iraniana ha dichiarato che è stata di fatto uccisa da altri protesters che non sappiamo bene a che fazione appartengono a cosa protestavano a che cosa protestavano ovviamente nessuno all'interno della comunità iraniana ci ha creduto è sembrata proprio una palla vera e propria e non ha fatto altro che alimentare nuove proteste l'ultima vicenda all'interno di questo contesto di ferro e fuoco è stata la vicenda di un atleta ok, la sportiva esatto quelle che sono le olimpiadi asiatiche in Corea, giusto? a Seul a Seul, bravo un altro paese un altro paese vabbè, con grosse contraddizioni ma a parte questo quest'atleta ha partecipato alla finale della sua competizione senza lo Kikab che è il Kikab o Kikjab scusa non lo so pronunciare va bene, neanch'io non chiederlo a me comunque il velo dovremmo impararlo però chiediamo scusa per questo il velo fondamentalmente che è obbligatorio secondo la legge religiosa e ovviamente questa atleta è sostanzialmente sparita per tre giorni torna, dichiara chiedendo scusa pubblicamente che è stato un errore che semplicemente non ha avuto il tempo di prepararsi in maniera adeguata perché l'hanno chiamata a competere all'ultimo secondo a questa stronzata non ci ha creduto nessuno fondamentalmente è stata poi accolta sono andati in 4.000 di notte in aeroporto ad accoglierla al suo ritorno e a celebrarla come paladina della libertà eroina della democrazia assolutamente sì il fatto connesso direttamente alla storia di quest'atleta è curioso perché in quei tre giorni in cui lei è sparita sono scoppiate delle rivolte in un carcere di massima sicurezza a Teheran dove sono morte 8 persone un carcere che è stato messo ferro a fuoco dove BBC Persia per esempio ha raccontato che dei detenuti sono stati gettati dal tetto da parte della polizia penitenziaria quindi una cosa veramente neanche nelle serie tv perché pare che lei fosse stata detenuta esattamente in quel carcere questo ci fa capire cosa? nei tre giorni in cui era sparita giusto? nei tre giorni in cui era sparita questo ci fa capire che il problema ha una portata veramente enorme e che non riguarda come detto solo la questione di genere cioè non è un problema tra virgolette delle donne ma della libertà è una questione di libertà e di democrazia perché mi viene da pensare che in un paese di 84 milioni di persone abbastanza evoluto per cui non stiamo parlando di paesi del terzo mondo o in fase di sviluppo forse un po' in fase di sviluppo sì però comunque dove c'è una globalizzazione l'interconnessione le informazioni che viaggiano veloci non si sia in grado di stabilire quanti siano le vittime quanti siano i feriti durante le proteste quante siano le donne arrestate quanti siano quelle uccise proprio perché c'è una cortina che riguarda l'informazione la cui non riescono a trappelare questo tipo di numeri di informazioni di comunicazioni ok? quindi è un problema che riguarda come dici tu non solo una questione di genere un gender gap o piuttosto che una discriminazione femminile ma proprio un problema di democrazia e di libertà personale assolutamente sì è curioso analizzare l'esistenza stessa di una polizia religiosa e morale esatto cioè che cos'è questa polizia cioè fondamentalmente nel fine degli anni 70 tra il 79 e l'80 in Iran ci sono state delle rivoluzioni ok? è andato su questo regime ed è stata istituita sta cavolo di polizia morale che non sono nient'altro che dei militari ok? che in gruppi dicono di sei quattro uomini e due donne si posizionano nei fulcri di traffico delle città centri commerciali di piazza cioè dove la gente sostanzialmente si ritrova e verificano sostanzialmente che le persone siano vestite in un certo modo che le donne siano lunghe che il velo appunto si è portato nel modo corretto esatto si è portato in maniera adeguata e che fondamentalmente non vi sia la tentazione questa secondo me è clamorosa come cosa cioè non vi sia la tentazione ecco allora l'ottica no? di colpevolizzare il tentatore e non invece chi esatto questo è veramente un problema ma certo ma che poi è proprio la tecnica del regime no? ah cazzo stabilire nella mente delle persone questa paura perché poi sei tu che tenti e quindi poi sei tu il colpevole e quindi è giusto che tu venga punito ma queste persone piene di rettitudine io sai cosa farei? io le metterei in una stanza con un milione di tentazioni non so magari sai due porno star un po' di droga un po' di alcol un po' di alcol e vedere la loro reazione però lo farei con un fucile puntato nel senso che poi appena appena cedi non so hai un'erezione no? per esempio ti parte un colpo cioè secondo me questa sarebbe la dimostrazione per assurdo perfetta di quanto tutto quello che loro sostanzialmente dicono e gli credono sia assolutamente fuori sia sbagliato però anche lì secondo me chi poi stabilisce le regole quindi si sente al di sopra delle regole si sente moralmente in dovere di poterlo fare perché perché? perché lui lo può fare perché al di sopra delle regole è una persona del genere che poi è un po' anche perché poi sono pochi sono oligarchie queste cose che stabiliscono i regimi sono poi esatto sono poi di fatto regimi a pieno titolo la protesta permettimi una piccola polemica mia personale che riguarda sempre i nostri amici influencer la polemica e le proteste sono arrivate in Italia dove avrete notato che un sacco di influencer si sono spuntate le doppie punte in segno di protesta no? ci sono ovviamente le persone che di varie estrazioni politica e sociale che invece l'hanno proprio fatta loro manifestando anche pesantemente persone iraniane che vivono in Italia che hanno portato avanti la protesta e poi tantissimi influencer che facevano vedere di tagliare i capelli che poi era diventato un po' il simbolo della protesta far vedere il capello e tagliarlo che si spuntavano facendo vedere con rabbia e grande vigore la loro vicinanza al popolo iraniano vabbè questa è una delle grandi distorsioni dei media a cui purtroppo dobbiamo dobbiamo sottostare io spero che questa tematica venga comunque approfondita ed effettivamente ci sia poi un interesse internazionale a riguardo ripeto stiamo parlando di un paese di 84 milioni di persone ok quindi un problema veramente di vastissima scala e anche perché è un pericolo che in molti paesi liberali occidentali sentono in un pericolo di espansione di queste esatto di questa mentalità come poi per tutte queste stupide polarizzazioni assurde di vario genere penso alla politica ma infatti se ti ricordi in qualche puntata fa nella scorsa nella scorsa edizione di on the matters avevamo parlato dell'antifeminismo quei movimenti che nascono contro le femministe perché c'è 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 il timore che il femminismo prenda il sopravvento sopra il liberismo non lo so sopra la democrazia sopra il maschilismo esatto già allora avevamo parlato di questo pericolo dilagante che potesse arrivare anche nell'occidente nei paesi più più liberali si hai ragione non escluderei che a breve qualcuno iranofilo non saprei come dirlo decidesse di importare questo questo sentiment è una cosa che probabilmente potremmo scoprire o avere delle rivelazioni in uno dei prossimi audio di Silvio Berlusconi non so se hai notato ecco ottimo collegamento a cadenza giornaliere esce un audio di Berlusconi che sputtana completamente forza Italia e tutta la coalizione di centrodestra altro che forza Italia io penso sputtano in primis la sua non so la sua dignità di essere umano gli ultimi che ha fatto su Zelensky ma ti prego racconta brevemente allora praticamente non si sa come perché sembra che Berlusconi abbia iniziato a parlare la settimana scorsa ogni giorno praticamente escono degli audio di Berlusconi da eventi privati cene comizi privati con la premessa di lui che dice mi raccomando non ditelo a nessuno e poi questi audio vengono pubblicati quindi nei vari audio che ci sono stati c'è scritto si sente dalla voce di Silvio Berlusconi che comunque Putin che è un leader democratico e liberale una brava persona voleva semplicemente togliere Zelensky che era un presidente ineguato per l'Ucraina per mettere un governo di tecnici e politici migliori e invece cosa ha fatto sto pazzo di Zelensky ha resistito ha resistito provocando di fatto la guerra in Ucraina perché perché di fatto dalle parole di Silvio Berlusconi Vladimir Putin è una persona dolcissima ma hai sentito gli ha mandato 20 bottiglie di vodka per il compleanno e lui come ha risposto con una lettera altrettanto dolcissima esatto mandandogli le casse di Lambrusco ma penso tra l'altro qualcuno faceva notare che è vietato l'import-export proprio per le sanzioni me lo sono chiesto anch'io e invece vabbè è riuscito a farlo oppure in altri audio dice che in occidente in oriente nel mondo globalizzato non esistono più leader a parte lui no? certo ora non si sa bene da chi vengano fatti uscire questi audio sta di fatto che ci sono e potremmo avere delle rivelazioni anche nei prossimi giorni nelle prossime settimane è un vero peccato che queste queste dichiarazioni queste conversazioni non siano uscite o non siano avvenute ecco magari un paio di settimane fa così magari cambiavamo un attimino le sorti della maggioranza ma questo è un altro discorso gli italiani erano veramente votato con la mano sul cuore come avevamo spiegato e mannaggia voi che non ci avete ascoltato non lo so credo che sarebbe semplicemente aumentato l'astensionismo in realtà può essere non lo so il PD neanche in quel caso avrebbe ottenuto voti ma il PD non avrebbe vinto comunque nemmeno se non ci fosse stata la coalizione di centrodestra però vabbè queste sono altre notizie e altre tematiche che affronteremo nelle prossime puntate di On The Matters per ora teniamoci stretti i diritti che abbiamo e cerchiamo sempre di istituirne e di definirne di nuovi non facciamoci prendere dal sopra non facciamo che insomma questi movimenti un po' estremisti prendano sopravvento e soprattutto apriamo gli occhi anche al di fuori della nostra comunità europea e internazionale non generiamo paure infondate cerchiamo di aprire la mente giusto a mente aperta verso la prossima puntata a domenica ciao ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti